Stai ascoltando un messaggio registrato in diretta dal programma La Voce del Pastore, in onda su parole di vita. Vogliamo leggere insieme questa mattina in Esodo 15, 25. Signore, grazie, grazie, grazie. Esodo 15, 25 dice Egli gridò al Signore, e il Signore gli mostrò un legno. Mose lo gettò nell'acqua, e l'acqua divenne dolce. E' lì che il Signore diede al popolo una legge e una prescrizione, e lo mise alla prova, dicendo «Lo mise alla prova, mettici il verde sopra per cortesia». A volte il Signore vuole provare a vedere come camminiamo noi. Quando comincia a camminare un bambino, noi cerchiamo di provare, come genitori, come cammina se lo lasciamo un poco. A volte lo lasciamo e lo guardiamo, per vedere se resta in piedi o no. Certo che cerchiamo di sorvegliare, però desideriamo che cammini su se stesso, che cominci a prendere l'equilibrio, che cominci a fare passi da solo. Il Signore desidera che noi facciamo passi di ubbidienza a quello che dice. Ma ahimè, qui ci sono tre milioni di persone, e si trovano di fronte a un'area dove c'è acqua, e l'acqua è amara. E che cosa fanno? Non abbiamo il tempo di leggere dietro. Mormorano, ma non fanno come Mosè. Leggiamo per cortesia il primo rigo. Egli, Mosè, gridò al Signore, e il Signore mostrò un legno. Il legno è simbolico. Non esiste un legno che lo butti nell'acqua e addolcisce l'acqua di una sorgente, di un'oasi intera, per tre milioni di persone, con degli animali che hanno insieme. È simbolico. Per farci comprendere un'altra cosa. Il Signore aiuto. Mosè ci dà un esempio, così dobbiamo fare noi. Dobbiamo andare a Dio. Gli mostrò un legno che è simbolo della croce di Cristo. Non lo sapevi? Viene ben riportato anche nel Nuovo Testamento. Se leggiamo la testimonianza degli Apostoli, loro parlano di Gesù appeso a un legno. Guardiamo come lo testimoniano in Atti 5,30. Il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù che voi uccideste appendendolo al legno. Siamo tornati al legno che Dio mostrò a Mosè per addolcire l'acqua e che tutto il popolo potè bere. Signore, grazie. Nel capitolo 10, verso 39 degli Atti, Pietro, a Cornelio, dice ancora la stessa cosa. E noi siamo testimoni di tutte le cose da Lui compiute nel paese dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero appendendolo a un legno. Allora, erano passati 1500 anni, l'immagine spirituale in coloro che hanno il discernimento spirituale comprendono che quel legno che Dio ha dato a Mosè è simbolico per far riferimento a colui che doveva essere appeso nel legno, a legno. Capisci? Come quando leggiamo il serpente nel deserto su un'antenna, la figura è che chiunque guarda Cristo riceve salvezza, riceve guarigione fisica e spirituale. Il peccato non arriva al cuore come il veleno dei serpenti non arrivava al cuore quando guardavano i serpenti di rame. Perdeva forza man mano che guardavano al serpente. per fare esercitare la fede Dio mette dei simboli e voi riceverete potenza in atti 1-8. Per mezzo della croce di Cristo dopo essere stato appeso al legno viene riversato nel nostro cuore lo Spirito Santo che ci dà potenza. Leggiamo atti 1-8. Voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. Quest'azione di Cristo sul legno ha portato potenza nella nostra vita liberazione guarigione e chi più ne ha più ne metta. Nel capitolo 13 verso 29 sempre degli atti degli Apostoli troviamo ancora dopo aver compiuto tutte le cose che erano scritte di Lui vedi allora la simbologia dell'Antico Testamento viene adempiuta nel Cristo lo trassero giù dal legno e lo deposero in un sepolcro qui parla della crocifissione di Cristo giù dal legno nel sepolcro ma non si ferma lì la testimonianza è gloriosa perché nel verso 30 guardiamo insieme ma Dio lo risuscitò dai morti alleluia ma Dio lo risuscitò e noi siamo testimoni dicono gli Apostoli perché noi abbiamo mangiato e bevuto con Lui dopo la sua risurrezione ed Egli apparve a più di 500 fratelli in una volta sola quando l'Apostolo Paolo scrisse l'Epistola ai Corinzi nel capito primo Corinzi 15 da 5 a 8 buona parte di quelli erano ancora in vita leggiamolo insieme primo Corinzi 15 da 5 a 8 poi apparve a Ceva poi ai 12 poi apparve a più di 500 fratelli in una volta dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti poi apparve a Giacomo poi a tutti gli Apostoli e ultimo di tutti apparve anche a me come all'aborto cioè ci mancava poco che fossi abortito e non avevo la possibilità di incontrarlo San Paolo che scrive questo legno ha prodotto un cambiamento ha portato vita la crocifissione di Cristo questo legno ha cambiato la storia dell'umanità San Pietro in primo Pietro capitolo 2 verso 24 dice su quella croce su quel legno egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce vedi un'altra volta il legno affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia e mediante le sue lividure siamo stati guariti bellissimo gloria sia resa a Dio quel legno simbolico nell'antico testamento efficace nella pienezza dei tempi perché quel legno dove Cristo è morto ha portato vita a noi rileggiamo esodo 15 25 signore mise alla prova ora mette alla prova noi eh mosè mosè gridò al signore e il signore gli mostrò un legno mosè lo gettò nell'acqua e l'acqua divenne dolce e lì che il signore diede al popolo una legge e una prescrizione e lo mise alla prova dicendo voi dovete fare come ha fatto mosè voi quando non c'è qualcosa non funziona non dovete mormorare voi dovete venire a me ecco il significato di tutto questo magari tu pensi ma io se fossi stato al posto loro non avrei mormorato non è vero perché noi stiamo vivendo in tempi dove la chiesa mormora tutti i giorni ci lamentiamo di questo di quello invece il signore ci mette alla prova per dire ma perché non fate come mosè mosè cosa fece due milioni e novecentonovantanove mila e novecentonovantanove mormoravano solamente uno aveva scelto la strada giusta mosè guarda che adesso in questo tempo tanti credenti passano più tempo a piagnucolare sulle loro difficoltà e ne parlano a tutti ma non ne parlano col signore il signore ci sta mettendo alla prova noi diciamo se fossimo stati al loro posto non avremmo fatto così certo lo stiamo facendo adesso ciò vuol dire che dobbiamo cambiare lo gettò nell'acqua e divenne dolce solo in questo modo le cose cambiano nella nostra vita oggi Gesù dice chi ha sete venga a me e beva cominciamo col piede giusto in Giovanni 7 37 insegnati questi versi Gesù dice nell'ultimo giorno il giorno più solenne della festa Gesù stando in piedi esclamò se qualcuno ha sete venga a me e beva questo grido di Gesù non è solo per quelli che erano lì che festeggiavano la loro religione e i loro riti senza maneggiavano acqua ma erano assetati e stanchi l'acqua della religione non di sete è il nostro cuore ma è Cristo allora questa mattina l'invito è fatto a me e a te leggiamo l'ultimo ricco leggilo insieme con me se qualcuno ha sete venga a me e beva questo è molto chiaro tu puoi essere cattolico testimone di geova mormone chiunque tu sia l'indicazione è una se vogliamo essere dissetati dobbiamo andare a Gesù l'esempio di Mosè ci fa comprendere che lui andò a Dio Gesù il figlio di Dio il nostro salvatore il nostro signore sta dicendo adesso adesso mentre lo leggiamo leggiamo l'ultimo rigo se qualcuno questo qualcuno sei tu e sono io ha sete venga a me e beva qui non possiamo dire nella mia religione si interpreta diversamente qui c'è poco da interpretare dice che se hai sete devi andare al Signore se ho sete in questo deserto tutte le altre acque sono amare Gesù ha l'acqua dolce grazie Signore chi crede in me nel verso 38 leggiamo perciò ho detto noi dobbiamo credere chi crede in me come ha detto la scrittura è scritto nella parola di Dio fiumi di acqua viva scorcheranno dal suo seno cioè non solo noi ci abbeveriamo ma dentro di noi c'è come una sorgente lo Spirito Santo che rinnova i nostri sentimenti mette una sorgente di nuovi sentimenti che sviluppa lo Spirito di Dio nella nostra vita grazie Signore pensieri nuovi che vengono da Dio ci attrae nel verso 39 ci spiega disse questo dello Spirito Santo disse questo dello Spirito perciò l'acqua e il senso spirituale che dovevano ricevere quelli che avevano creduto in Lui lo Spirito Santo infatti non era ancora stato dato perché Gesù non era ancora glorificato ma in Atti 2 4 dove cominciano gli ultimi tempi leggiamo tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro di esprimersi e qui si è aperta la sorgente il mondo allora conosciuto fu allagato dalla predicazione del Vangelo e cambiò la storia la Chiesa del primo secolo dilagò da tutte le parti in tutto il mondo allora conosciuto con l'acqua della vita che Cristo faceva fluire attraverso la predicazione del Vangelo dei credenti si convertivano e si davano al Signore e propagavano si toglievano anche i fastidi di case di terreni che avevano e erano diventati tutti missionari Signore che bello facci tali questa mattina e la promessa è anche per noi sì non se ci mettiamo a mormorare ma se andiamo al Signore leggiamo nel verso 38 dice che la promessa è per noi verso 38 del capitolo 2 degli atti degli apostoli Signore grazie 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 e Pietro a loro la vedetevi cioè non state a mormorare ma fate come Mosè ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati e voi ricevete il dono dello Spirito Santo dobbiamo fare come Mosè che cosa fece Mosè io li voglio leggere le cose perché così prendiamo nota in Esodo 15 25 Mosè cosa fece andò al Signore gridò al Signore noi dobbiamo gridare al Signore non gridare oh no gridare vuol dire invocare il nome del Signore leggiamolo insieme cosa fece e gli gridò al Signore e il Signore rispose gli mostrò un legno Mosè lo gettò nell'acqua e l'acqua divenne dolce cosa dobbiamo fare noi in Atti 2 21 ci dice come le acque nel nostro cuore della nostra vita possono diventare dolci leggiamo Atti 2 21 chiunque farà come Mosè cosa fece Mosè Mosè invocò il nome del Signore e avverrà che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato hai capito bene sorella hai capito bene fratello mi viene nella mente non la Madonna no Padre Pio no San Francesco no il protettore del tuo paese togli di mezzo questo questa è l'idolatria togliela di mezzo per piacere il Signore il Signore ci mette alla prova per vedere se noi ubbidiamo o no alla Sua parola se noi testardamente perseveriamo nel nostro sistema religioso vuol dire che non facciamo come Mosè facciamo parte dei 2.999.999 io voglio fare come Mosè che fece Mosè ridò al Signore che dice Atti 2.21 leggiamola insieme noi dobbiamo seguire ciò che dice la parola e avverrà che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato mettici il verde sul Signore per cortesia allenati a mettere il verde così ce lo mettiamo per bene perché si può mettere bisogna esercitarsi per certe cose bravo il nome del Signore fratello sorella dove ti trovi qui non c'è San Paolo San Pietro il nome del Signore in Esodo 15.25 leggiamo il primo rigo per cortesia le cose cambiano e gli gridò al Signore mettici il verde e il Signore rispose mettici il verde gridò al Signore per piacere stamattina facciamo un po' di esercizio bravo e gli gridò al Signore e il Signore rispose giusto e penso che dovresti sapere queste cose gridò al Signore il Signore gli mostrò un legno qual è il legno per noi questa mattina Pietro ce lo dice primo Pietro 2.24 dice sul legno egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce metti per piacere legno della croce verde legno della croce e adesso ti sei allungata un po' sul legno della croce dai fai un po' di esercizio legno legno della croce affinché morti al peccato viviamo per la giustizia e mediante le sue lividure siamo stati guariti signore signore grazie e allora conoscerete Gesù parlando ai suoi contemporanei ora lo dice a noi se noi seguiamo letteralmente ciò che dice la parola del Signore acquisiamo una conoscenza interiore di chi è Dio di chi è Gesù e di chi è lo Spirito Santo chi è leggiamo Gesù come si esprime in un modo chiaro in Giovanni capitolo 14 verso 20 quando noi facciamo passi di ubbidienza in quel giorno che noi cominciamo ad essere ubbidienti scopriamo che Gesù è nel Padre noi in Lui e Cristo in noi c'è una fusione del divino nell'umano scende il suo divino potere nella nostra vita c'è un'immagine che mi è restata impressa in Luca 1 35 quando Maria chiese come può avvenire che io resto incinta l'angelo disse a Maria la potenza dell'altissimo si riversa sopra di te leggiamolo insieme lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'altissimo ti coprirà dell'ombra sua perciò anche colui che nascerà sarà chiamato Santo Figlio di Dio questi due primi righi ci danno la risposta di come avviene che Dio trasferisce attraverso lo Spirito Santo il suo potere nella nostra vita la potenza la potenza di Dio perciò Gesù dice in atti 1 8 voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi adesso abbiamo capito almeno teoricamente però poi lo dobbiamo mettere in pratica voi riceverete potenza la potenza dell'Altissimo scende sopra di voi leggiamolo insieme per cortesia voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi grazie Signore e perché la promessa è anche per noi lo troviamo precisamente in atti 2 39 non possiamo dire e se fossi stato a quel tempo c'ero pure io no la promessa è per voi per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani per quando il Signore Dio nostro ne chiamerà per lungo tempo appresso è chiaro che come dice nel verso 38 dobbiamo andare al Signore la vedetevi e ciascun di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo bisogna prendere una decisione per il perdono dei vostri peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo il patto fatto col Signore quando andiamo al Signore chiediamo confessiamo i nostri peccati chiediamo perdono riceviamo il perdono e dopo e dopo ci battezziamo per fare il patto col Signore perché Lui ha detto che dobbiamo fare così come un soldato che entra nell'esercito fa il giuramento quante volte sentiamo dire a dei familiari dei genitori devo andare perché mio figlio deve fare il patto sotto le armi il giuramento il battesimo equivale alla circoncisione dell'Antico Testamento ma noi confermiamo il patto che abbiamo vogliamo vivere per Cristo saremo battezzati il patto col Signore attraverso il battesimo ha un significato profondo come essere morti al sistema mondano e vivere per Cristo infatti più volte troviamo nel Nuovo Testamento Gesù che dice leggiamolo in una parte in Luca 9,23 diceva poi a tutti e questo giorno lo dice a me e a te ascolta bene se uno vuol venire dietro a me rinunci a se stesso prenda ogni giorno la sua croce e mi segua e siamo come morti che viviamo per la causa di Cristo e per la causa del Vangelo giusto? Acquisisci il senso di quello che sto dicendo San Paolo collega questo sentimento al nostro battesimo e nel capitolo 6 dell'Epistola ai Romani dal verso 3 al verso 5 ci dà il significato del battesimo non so se tu sei stata battezzata o meno ma adesso guardiamo che cosa vuol dire non dobbiamo ignorare che tutti noi che siamo stati battezzati in Cristo Gesù se sei cristiana se sei cristiano non lo cambiare ancora sei stato battezzato in nome di Cristo siamo stati battezzati nella sua morte cioè noi siamo come morti in lui viviamo in lui nei suoi principi naturalmente siamo dunque stati sepolti con lui mediante il battesimo nella sua morte questa è la figura affinché come Cristo è stato risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre così anche noi camminassimo in novità di vita guardiamo insieme cosa succede quando noi ci battezziamo la parola battesimo vuol dire immersione non so se hai visto qualche battesimo come lo facciamo secondo il Vangelo per immersione cioè se mentre noi ci battezziamo per immersione il pastore ci lascia tre centimetri sotto l'acqua noi moriamo ma questa figura ci serve perché è come se noi fossimo morti al sistema mondano e quando ci tira su e cominciamo a camminare che ci andiamo a asciugare da quel momento abbiamo deciso di camminare in novità di vita nei principi di Cristo non più nei principi della nostra vecchia religione del nostro sistema diabolico di questo mondo leggiamo il 4 e il 5 così comprendiamo siamo stati dunque sepolti con lui mediante il battesimo nella sua morte affinché come Cristo è stato risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre così anche noi camminassimo in novità di vita perché se siamo stati totalmente uniti a lui in una morte simile alla sua lo saremo anche in una risurrezione simile alla sua è nata in noi la speranza della risurrezione noi sappiamo che risorgeremo anzi lui ritornerà e saremo trasformati in un battere d'occhio perché i tempi sono maturi il rapimento può venire da un momento all'altro lo vogliamo leggere in primo tessalonicesi 4.17 noi stiamo aspettando questo grande evento perché i tempi sono maturi le cose che ci circondano ci dimostrano questo noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro come come Enoch come come Elia sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore questa è la risurrezione nostra qua è tutta roba che da un momento all'altro lasciamo tutto ma quanti lasciano tutto ogni giorno ti rendi conto quanti milioni al giorno nelle guerre nelle catastrofi in tutto lasciano e partono noi non ci pensiamo Signore aiutaci a riflettere torniamo indietro in Esodo 15 25 26 perché abbiamo un'altra lezione importante Egli gridò al Signore e il Signore gli mostrò un legno Mosè lo gettò nell'acqua e l'acqua divenne dolce lì e lì che il Signore diede al popolo una legge e una prescrizione e lo mise alla prova dicendo leggiamo il verso 6 26 se tu ascolti attentamente la voce del Signore che è il tuo Dio e fai ciò che è giusto agli occhi suoi porgi orecchio ai suoi comandamenti e osservi tutte le sue leggi io non ti infliggerò nessuna delle infermità che ho infritto agli egiziani perché io sono il Signore che ti guarisce io sono il Dottore se tu questi sono gli statuti le ordinanze che il Signore diede Cristo le ha adempite per noi perché noi non possiamo seguire i 618 precetti della legge e i dieci comandamenti non ci riusciamo ma Cristo lo ha fatto per noi leggiamo insieme in Matteo 5 17 io sono venuto non per abolire la legge ma per portare a compimento non pensate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti io sono venuto non per abolire ma per portare a compimento cioè per adempire per noi che non ce la facciamo perciò si è sostituita a noi nel capitolo 12 verso 18 dello stesso Vangelo Gesù dice ecco il mio servitore parla di lui che ha adempito la legge che ho scelto dice Dio il mio diletto in cui l'anima mia si è compiaciuta io metterò lo spirito mio sopra di lui ed egli annuncerà la giustizia alle genti nel verso 20 con la manifestazione della grazia e della mansuetudine egli è venuta ad annunciarci la grazia e lui quando incontra noi nella nostra debolezza non frantumerà la canna rotta e non spegnerà il lucignolo fumante finché non abbia fatto trionfare la giustizia Dio in Cristo mostra misericordia verso noi deboli ora l'ultimo rigo del verso 26 che abbiamo letto nel capitolo bravo perché io sono colui il Signore colui che ti guarisce io sono il dottore quando andiamo a lui come fece Mosè nel verso 25 non dobbiamo mormorare dobbiamo andare al Signore per risolvere il problema Mosè è un esempio per noi leggiamo il verso 25 egli gridò al Signore e il Signore gli mostrò un legno a noi il Signore ci mostra il legno sul quale Cristo ha pagato il prezzo per noi e noi abbiamo ricevuto guarigione mentale spirituale fisica e liberazione Mosè andò lui ci guarisce anima spirito corpo e mente dobbiamo coinvolgere la nostra mente come quando andiamo dal dottore quando noi abbiamo dei problemi delle infermità delle cose quando dobbiamo andare dal dottore come facciamo come quando andiamo dal dottore egli è il nostro liberatore ma anche il nostro dottore questa è un'opera per quelli che credono noi quando andiamo dal dottore come facciamo andiamo fissiamo l'appuntamento ci laviamo ci prepariamo andiamo nella sala d'attesa aspettiamo poi entriamo per fare la visita gli diciamo che ci sentiamo dove ci fa male cosa ci fa male perché non andiamo al signore come quando andiamo dal dottore per dire per dire al signore con tutto il cuore come fece Mosè quali sono le nostre difficoltà perché perché abbiamo il tempo di andare dovunque e mormorare e non prendiamo il tempo per andare dal signore me lo chiedo se noi siamo credenti e lui è il nostro dottore confidenzialmente noi dobbiamo andare per dirgli come stanno le cose questa è un'opera per quelli che credono in Gesù guardiamo in Marco 16 17 18 i vantaggi che noi abbiamo come credenti questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto nel mio nome scacceranno i demoni e il signore ci ha spiegato come dobbiamo fare parleranno in nuove lingue perché veniamo battezzati nello spirito santo con il dono delle lingue verso 18 prenderanno in mano dei serpenti qua è figurativo le forze dell'avversario che sono dipinti come forze di serpenti scorpioni scarafaggi anche se berranno qualche veleno non ne avranno alcun male imporranno le mani agli ammalati ed essi guariranno imporranno le mani attenzione quando vai dal dottore ti prepari aspetti il turno poi entri e gli spieghi con calma qui qua così cosa noi dobbiamo andare al signore così l'ultimo rigo del verso 26 del capitolo 15 dice Dio io sono il tuo dottore perché io sono il signore che ti guarisce io sono il dottore quando noi crediamo dice che coloro che credono imporranno le mani sugli infermi e saranno guariti non li dobbiamo guarire noi noi dobbiamo fare come dice il signore noi lo facciamo o non lo facciamo se non lo facciamo su altri lo facciamo almeno su di noi che ci mettiamo davanti al signore e diciamo signore mi fa male la testa signore ho dolore su questo braccio per amore tuo per piacere nel nome di Gesù vedi che dolore tengo signore per amore del tuo nome tu sei il mio dottore tu nella tua parola dici che sei il mio dottore signore ma questo mi fa male ma dimmi fammi comprendere che cosa devo fare signore dammi le direttive come devo fare stai facendo così se non lo fai vuol dire che non credi quando noi facciamo come dice lui vediamo le risposte per esempio i discepoli credevano veramente nel verso 20 dello stesso capitolo fecero esattamente quello che Gesù aveva detto e guardiamo che succede quelli se ne andarono a predicare dappertutto il signore operava con loro confermando la parola con i segni che l'accompagnavano lui conferma la sua parola non lo fa se siamo bravi o siamo meno bravi perché lui l'ha detto quando noi lo facciamo lui conferma la parola la sua parola se non lo facciamo vuol dire che non crediamo siamo dei credenti che non crediamo perché non lo facciamo no ma io credo ma che credi se tu non lo fai che credi se tu non vai al signore per dirgli che cosa ti fa male e invochi il signore che intervenga nella tua vita fai come quei 2.999.990 solo Mosè andò al signore e cambiò tutto tu ci devi andare devi imparare di stare così davanti al signore per te e anche per la tua famiglia se credi lo fai signore aiuta ma ancora di più i discepoli quando Gesù li mandava facevano come diceva lui in Marco 6.13 leggiamo come si muovevano scacciavano molti demoni e Gesù ci dice di fare così lo dobbiamo fare ungevano d'olio molti infermi e li guarivano non era l'olio ma la preghiera della fede l'olio è il simbolo dello spirito santo infatti il signore dice è un ordine sacro un ordinamento sacro un sacramento in Giacomo capitolo 5 verso 14 dice così c'è qualcuno che è malato chiami gli anziani della chiesa ed essi preghino per lui un cendolo d'olio nel nome del Signore bellissimo sei andata dal pastore per dire fammi l'unzione dell'olio segnati il verso Giacomo 5 14 e 15 vai dal prete vai dal frate vai da chi ha autorità spirituale e digli per cortesia mi fai l'unzione dell'olio se tu credi se lui ti dice ma no questo senti questo è scritto nel Vangelo fammi la cortesia fammi l'unzione e prega per me e tu preghi insieme con lui chiami manda o manda un messaggio a noi manda un messaggio alla prima occasione facciamo l'unzione dell'olio io ce l'ho sempre qua a noi dobbiamo fare che dice il Signore non che diciamo noi no ma quello poi non succede niente ecco allora non credi io ci credo quando tu me lo chiedi io lo faccio ma perché io non devo fare il miracolo lo deve fare il Signore io devo fare però ciò che dice il Signore hai capito signore aiutaci chiami manda un messaggio e lo facciamo leggiamo nel verso 15 che sei grande Signore noi ci complichiamo la vita la preghiera della fede salverà il malato e il Signore lo ristabilirà è il Signore che lo deve fare mica lo faccio io devo fare solo l'unzione dell'olio con te e se gli ha commesso dei peccati gli saranno perdonati molti pensano non lo fanno perché pensano che poi non succede niente ma io non dico che non succede niente io dico che il Signore lo fa e non dico che lo faccio io che puoi venire e dire frate ma non hai fatto niente no il Signore non mi dice a me e a te che noi dobbiamo fare il miracolo dice che noi dobbiamo fare l'unzione come lui dice e pregare insieme e lui lo fa ci credi io non ci credi se non ci credi allora non sei credente che credente sei professi ma non è vero se ci credi lo fai questo è un ordinamento sacro l'olio non è medicina ma nell'Antico Testamento è ben specificato ma anche i discepoli abbiamo visto che lo facevano se leggiamo per esempio in Esodo 27 20 ci parla di un simbolo meraviglioso ordinerai ai figli di Israele che ti portino dell'olio puro di olive schiacciate per il candelabro per tenere le lampade sempre accese la luce di Cristo e la fiamma della fede deve essere sempre viva nella nostra vita come troviamo qualcosa che il Signore dice che dobbiamo fare noi dobbiamo esercitare la fede è capitolo 30 verso 25 dello stesso libro leggiamo insieme ne farai un olio per l'unzione sacra un profumo composto secondo l'arte del profumiere sarà l'olio per l'unzione sacra in secondo corinzi 2 15 dice che noi noi infatti davanti a Dio noi siamo infatti davanti a Dio il profumo di Cristo fra quelli che sono sulla via della salvezza e fra quelli che sono sulla via della perdizione per testimoniare del legno della croce che ha guarito e ha addolcito l'acqua che beviamo per dire a chi ha sete per dire cosa quello che dice Gesù cosa dice Gesù noi dobbiamo dire a quelli che hanno sete come l'avevamo noi lo dice Gesù in Giovanni 7 37 leggiamo chi ha sete venga a me e beva Signore grazie se qualcuno ha sete venga a me e beva verso 38 dice il fiume della benedizione di Dio chi crede in me come ha detto la scrittura fiumi abbondanti scorgheranno dal suo seno fiumi di guarigione fiumi di liberazione fiumi di benedizione la benedizione di Dio si posa sopra di te ricevi potenza perciò noi dobbiamo mantenere sempre viva la fede in primo Corinzi 1 18 noi annunciamo la predicazione della croce che è pazzia per quelli che periscono perché non ci credono ma per noi che veniamo salvati questo legno non il legno in sé ma quello che Cristo ha fatto per noi è la potenza di Dio che ha pagato il nostro debito ed è diventato il nostro Dio il nostro salvatore il nostro dottore il nostro signore e re e noi seguiamo Gesù pensa pensa per un attimo quando vai dal dottore come fai vai da Gesù ogni giorno vai a Dio ogni giorno porta i tuoi dolori e aspettati grandi risposte il Signore il Signore si servirà di te per te e per quelli che sono insieme con te quando ti trovi con qualcuno che soffre per il peccato per la disubbidienza per dolori proponigli Gesù perché Gesù sul legno della croce ha pagato il prezzo per te per me ed ha addolcito la nostra vita perché Lui è il nostro salvatore il nostro guaritore il nostro Signore ed è colui che torna tra poco e andremo con Lui gloria sia resa a Dio gloria sia resa a Dio ora e sempre ringraziamo il Signore preghiamo Signore grazie per la Tua parola grazie perché Tu hai completato l'opera per la nostra salvezza Tu hai edempito la legge per noi hai portato i nostri peccati sulla croce per dare a noi liberazione e guarigione mentale spirituale fisica dell'anima e del corpo e Tu ci liberi completamente ogni giorno quando veniamo a Te Signore ti prego per la sorella per il fratello fa che la meditazione della Tua parola possa essere il suo cibo quotidiano nel nome di Gesù Amen Amen Hai ascoltato un messaggio registrato in diretta continua a seguirci sui nostri canali social o sul sito www.paroledivita.org